Buongiorno a tutti, questa volta la festa delle idee arriva in un momento particolare per la nostra fase politica, dopo le elezioni europee in cui il PD ha riscosso un grandissimo successo, ma anche dopo due scandali che hanno sconvolto il Paese e anche la stessa politica, quella dell'Expo e quella ora, che sembra detto è più grave, quella del Mose, tangenti a pioggia e corruzione ad altissimi livelli. Noi oggi abbiamo l'occasione di poter parlare anche di questo con il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ma lo facciamo non solo con le nostre domande, con le domande del Direttore di Repubblica, ma anche con le domande dei lettori, di chi segue il giornale di carta e chi segue le notizie, le nostre notizie attraverso il sito. Abbiamo ricevuto migliaia di domande dai nostri lettori, le abbiamo raccolte, le abbiamo suddivise e faremo tutte queste domande appunto al Presidente del Consiglio Matteo Renzi che entra. Ci saranno appunto le domande dei lettori, il Direttore di Repubblica che chiuderà il Presidente del Consiglio sicuramente, insieme naturalmente alle domande del Direttore di Repubblica Matteo Renzi. Grazie. Grazie. Mi presento il Presidente del Consiglio. Posso stare sereno? No, io ringrazio tutti voi di essere qui, di essere qui anche quando non c'è il Presidente del Consiglio per degli interventi culturali, con tutti quelli che abbiamo fatto in questi giorni che faremo ancora, prima del gran finale tra Scalfari e Benigni, che io aspetto con grande curiosità e emozione. E ringrazio il Presidente del Consiglio per gli impegni che ha sta per partire da un viaggio in Asia, che lo porterà in diversi paesi, aprire le strade al mondo della produzione italiana. Lo ringrazio anche perché è una tradizione che si rinnova. Il Presidente del Consiglio era in prima fila lo scorso anno a Repubblica delle Idee a Firenze, aveva partecipato a molti dei nostri eventi, era anche stato intervistato da Massimo Giannini e era in prima fila quando il Presidente del Consiglio di Allora, Enrico Letta, rispose alle domande di Repubblica. Perché è un format di interrogare chi guida il Paese in quel momento, è una delle funzioni del giornale e l'anno prima a Bologna c'era stato il Presidente del Consiglio Monti, poi Letta è venuto anche a Venezia insieme con il Presidente del Parlamento europeo Schultz, a una Repubblica delle Idee dedicata interamente all'Europa. Come ha detto Claudio e Tito, noi abbiamo raccolto più di mille domande dei lettori, dei cittadini e le domande io le ho concentrate in alcuni temi, le ho messe insieme alle nostre curiosità e man mano che le domande crescevano terremotavano la scaletta ordinata che il giornale si era fatto, a partire dalla politica, a partire dal risultato elettorale, arrivare alle riforme, arrivare agli impegni del governo per poi parlare dell'Europa e delle prospettive. Le chiedo, con quello che è successo al Mose e che è successo dopo l'Expo, con quello che Repubblica ha documentato oggi, che ogni 5 euro spesi per il Mose uno se ne va in un sistema tangentista che è fatto di 22 milioni e mezzo accertati già di tangenti e il resto sono prebende e quello che ci dovrebbe inquietare di più è un meccanismo di tenere a libro paga, di compensare un mondo attraverso sovrafatturazioni e attraverso privilegi aiuti che arrivano fino a ristrutturazioni alle ville eccetera. Ecco le domande, non bisognerebbe anche terremotare l'agenda del governo, come mai la sua velocità ha rallentato proprio in laguna e lei ha rimandato le misure che deve prendere nei confronti della lotta alla corruzione? Per una scelta consapevole e convinta è una scelta che può non essere apprezzata ma di cui sono il primo e unico responsabile. Noi siamo abituati a intervenire sulle vicende di corruzione con provvedimenti di emergenza, spesso legati più dall'ansia da prestazione del capo del governo, del ministro competente, dell'uomo politico, ansia comprensibile, dimostrare che siamo in grado di reagire, lo Stato reagisce. Poi però scopriamo che abbiamo fatto un sacco di regole in più e il problema non sono le regole, sono chi non le rispetta. Abbiamo un sacco di authorities e il problema non sono le autori ma quello che fanno. Allora su questo io sono personalmente molto colpito soprattutto dalla vicenda veneziana perché c'è un elemento che tira in ballo la politica evidente. Chi volesse negare una evidente responsabilità della politica e di alcuni politici questa vicenda sarebbe fuori dalla storia, anche per la mia parte politica, anche per la mia parte politica. Quindi guai a chi dice no ma lui non non è iscritto, riguarda tutte le parti politiche, riguarda anche il PD e il centrosinistra. Però nel caso di Venezia è ancora peggio perché riguarda alcuni magistrati, riguarda alcuni finanzieri, cioè riguarda alcune persone che rappresentano non soltanto i ladri ma anche le guardie. Siccome, no non l'applauso perché è proprio da applausire, è una constatazione del genere, a questo punto la risposta che noi dobbiamo dare è di due profili. Uno è una risposta strutturale che può avere una settimana di tempo in più o due settimane di tempo in più. Due settimane quindi? No io la immagino, poi le dico come la immagino direttore, però perché è su un doppio binario di risposte, ecco poi nel merito a dirle come, ma c'è anche bisogno di una risposta culturale, cioè quando voi fate la Repubblica delle idee e parlate di riscrivere il paese, dite una cosa sacrosanta, noi non usciamo dalla crisi semplicemente con provvedimenti spot. Allora, benissimo i provvedimenti spot e poi andiamo nel merito a discutere se le guardate, ma c'è un'esigenza, c'è un'emergenza educativa in Italia da cui si riparte, o si riparte con una scommessa educativa, culturale, che tiene insieme l'istruzione pubblica, l'educazione, la cultura, i teatri, la RAI e si riparte di lì e quindi si afferma il principio che la legalità non è un'option, ma è un valore che vale per le guardie e per i ladri, oppure noi entriamo in una dimensione che è soltanto una dimensione spot come tutti gli altri. C'è l'arresto, io reagisco e siccome devo reagire e siccome ho bisogno anche di dire ai giornali che sono forti e che dimostro che lo Stato reagisce, faccio un provvedimento spot, do all'ennesima autorità dei poteri slegati da tutto il resto e domani siamo tutti a capo. Il tema non è soltanto dei poteri all'ANAC che è l'autorità nazionale anticorruzione a Raffaele Cantone, il tema è come noi diamo lo spazio di intervento e come togliamo delle istituzioni che non hanno funzionato, perché io penso questo, un'autorità che in anni di funzionamento ha visto aumentare il numero dei dipendenti, aumentare le indennità, aumentare le relazioni e i tomi di carta e non si sono accorti di un solo appalto in cui le cose non andavano e allora non ha più senso che esistano quelli da quel genere, bisogna mettere sotto la giurisdizione dell'ANAC che in questo caso è il Presidente Cantone anche funzioni che in questo momento appartengono ad altri autoriti e che non hanno funzionato, anche perché a me quelli che arrivano il giorno dopo a dire eh ma si sapeva, eh no, si sapeva per cortesia lo voglio dire a qualcun altro, o si sa e si dice o se, è stupefacente questa discussione, il problema degli appalti sono le procedure eccezionali, non è neanche vero nemmeno questo, le faccio un esempio, se lei ha delle procedure ordinarie che richiedono anni tra l'autorizzazione, l'appalto, la presentazione preliminare, la presentazione definitiva, l'inizio dei lavori, è chiaro che in questo periodo si gonfia il quantum dell'appalto e che cosa fa un'azienda oggi? La prima cosa che fa ti piazza delle riserve, negli appalti pubblici in Italia lavorano più gli avvocati che i muratori e questo è un'altra cosa su cui viene da sorprendere ma viene anche da piangere, vi garantisco, allora il meccanismo è cambiamo radicalmente il processo amministrativo, cambiamo radicalmente l'impostazione della procedura pubblica, cambiamo radicalmente il contratto, se c'è un valore nel risultato elettorale, oltre che dal punto di vista europeo, è quello di consentirci di avere il tempo per una rivoluzione che sia radicale, io sono anche un po' accusato di provvedimenti talvolta spot, quante volte me l'hanno detto, se c'è una cosa di cui sono certo è che oggi è arrivato il momento di una riforma radicale e strutturale, ci vuole una settimana in più, ce la prendiamo tutta, l'importante è che passi un meccanismo nel quale l'Italia non soltanto i corrotti li va a scovare, ma quando li ha scovati, li processa in tempi certi e quando si scopre che sono colpevoli, perché io sono per la presunzione di innocenza fino all'ultimo giorno dell'ultima sentenza passata in giudicato, perché sono garantista davvero, ma quando ti ho beccato e stai passato in giudicato, mi fai la cortesia, tu che hai corrotto qualcuno o che hai concusso qualcuno, mi fai la cortesia, tu con gli apparti pubblici non ci metti più piede nel campo, il gasto è questo, è l'idea che tu sei fuori totalmente e definitivamente da tutto il gioco. Ecco, ma in concreto, Cantone ha detto ieri, io potrei anche tornare in Cassazione, in concreto che cosa, diamo pure una settimana più di tempo al governo, ma per fare che cosa? La settimana prossima, venerdì, il governo farà un provvedimento ad hoc che recuperi lo spirito delle raccomandazioni della Commissione Europea, lei ha visto, il giornale ne ha dato conto quanto siano importanti le raccomandazioni sulla competitività, su tutte le questioni di cui parliamo sempre dell'economia, ma anche sul processo amministrativo, sulla giustizia, sulla corruzione, noi abbiamo questa cifra davvero significativa di presunta, perché naturalmente sono cifre presunte, la corte dei conti da un lato, ma ci sono anche le statistiche europee che dicono che noi abbiamo la metà della corruzione che c'è in Europa, a mio giudizio sono statistiche che lascia un po', 60 su 120 vorrei capire, perché cambia poco, il punto vero è che dove c'è un elemento di corruzione bisogna intervenire e recuperare quei denari oltre che recuperare quella dignità dell'appartenere a un paese che trova piacere nel rispettare le regole, che è una grande questione educativa di cui parleremo e discuteremo. Bene, venerdì prossimo noi faremo un provvedimento di legge che conterrà non un potere speciale, scherzavamo prima con Raffaele Cantone, non è che c'è la luceolina di superpippo e improvvisamente diventa un superpm, anche perché abbiamo già altre questioni nelle varie città, o contemporaneamente un uomo dotato di superpoteri che riesce a risolvere tutto, ma la possibilità reale di incidere sia sulla vicinanza che sulle procedure che devono essere le procedure le più ferre di tutti. Dopodiché io voglio chiedere una cosa molto semplice, io trovo sconvolgente, so che magari vi metterete a sorridere, ma trovo sconvolgente che nel tempo dell'informazione e dell'ICT spinto, il giorno in cui Vodafone dice che ci sono centinaia, migliaia, decine di migliaia di telefoni sotto controllo, pensare di poterla farla franca in un tempo in cui tutto è telecamere, tutto è tracciato, tutto è verificabile, io la considero una cosa che è di una superficialità impressionante, con gli strumenti dell'innovazione tecnologica noi siamo in grado di verificare e il punto vero diventa la volontà politica e quindi dopo il passaggio di vederti prossimo direttore, nel pacchetto di riforma della giustizia deve essere un principio chiaro di certezza della pena, se sei in condizioni di aver violato la legge e si viene provato con un processo rapido e un processo efficace, la certezza di poi ti puoi redimere, perché noi siamo assolutamente convinti che tu possa redimerti dopo la pena e quello che vuoi, però tu in un ufficio pubblico non ci metti più in piede se non per fare un certificato o all'anagrafe o una carta d'identità, ecco questa è la rivoluzione di cui abbiamo bisogno, è chiaro che sarebbe molto più shock dire adesso vengo qui e do i superpoteri a Mr. X, sono 20 anni che diamo i superpoteri e sono 20 anni che la corruzione cresce, sarà arrivato il momento di voltare pagina o no, io su questo mi gioco molto della mia credibilità ma sono anche molto convinto che l'Italia per bene sia pronta a dire basta e l'Italia per bene è decisamente in maggioranza e decisamente in grado di farsi sentire. Ecco però c'è da recuperare qualcosa che abbiamo perso negli ultimi vent'anni, la legge anticorruzione, lei si ricorda che la Repubblica ha raccolto più di 500 mila firme di normalissimi cittadini che volevano solo una legge anticorruzione come la chiedeva l'Europa, mentre la Severino stava varando la sua legge anticorruzione all'epoca del governo Monti, gli abbiamo portato il primo stock dei 350 mila firme dicendo che si appoggia all'opinione pubblica, la Repubblica non c'entra, l'opinione pubblica sì, poi il falso è un bilancio, insomma c'è qualcosa che il governo può fare, il Parlamento può fare. Questo pacchetto sta nel tema della riforma della giustizia che è di 15 giorni successiva all'appuntamento di venerdì prossimo, cioè entro il mese di giugno. Noi avremo, per quello che riguarda il processo civile, il processo telematico entra in funzione il 30 giugno, processo telematico civile, abbiamo un pacchetto di riforme strutturate, complessive del sistema della giustizia, a partire da alcune scelte che ha fatto il Ministro Orlando, che trovo molto giuste. Una di queste, mi fa piacere dirla, so che è uscita appena sui trafiletti, ma un altro magistrato come Mario Parbuto, il magistrato piemontese, torinese, che a Torino ha rivoluzionato il sistema organizzativo e ha consentito di avere dei tempi certi nei processi, forse il Tribunale con i risultati più significativi in questo è diventato da due giorni il Direttore Generale dell'Organizzazione della Giustizia in Italia. Ha accettato l'invito di Orlando e mio a, nonostante anche qualche resistenza che faceva, venire a Roma a venire a darci una mano. È il segno che quando si fa una chiamata i migliori vengono a darci una mano. Quando si dice dai usciamo da questo clima di rassegnazione, si arriva. Il pacchetto giustizia sta alla fine del mese di giugno come da impegno preso il giorno dell'incarico e in quel pacchetto ci sarà questo, ci saranno anche una serie di provvedimenti relativi alla giustizia amministrativa, ad altri tipi di giustizia perché noi abbiamo un grande problema della giustizia civile, il problema della certezza delle regole, però Direttore ribadisco per me il concetto. Sì, esiste un problema di regole, ma esiste innanzitutto una grande questione. Noi dobbiamo affermare, uno, che la legalità non soltanto non è un optional per noi, ma è un valore per il quale la certezza della pena deve dare dei risultati immediati. Tu hai questo spazio di racconto possibile dell'Italia. Se noi continuiamo a dare il messaggio che cambiamo le regole, cambiamo le regole, cambiamo le regole, ma poi dopo vent'anni tornano gli stessi. La cosa sconvolgente dell'Expo, non è anche la tangente, vorrei essere chiaro, non è che mi diceva bene, però io vedo una tangente, mi indigno, ma la cosa stupefacente, le stesse persone di quando io andavo al liceo, le stesse persone che tornano nella stessa città a fare le stesse cose. È il senso, sai quando ti viene giù, ti cadono le braccia e dici beh, allora c'è l'impotenza totale. Ecco, io vorrei combattere questa sensazione, gli stessi nomi che sono tornati non potranno più tornare perché noi stavolta facciamo sul serio. È chiaro che c'è anche un problema di regole, ma io continuo a pensare che il primo problema non è continuare a dire cambiamo le regole, il primo problema è becchiamo chi delinque e puntini, puntini, puntini perché stavo venendo meno a un principio costituzionale. Presunzione di innocenza, lei è Presidente del Consiglio, ha raccontato il time del governo. Ho l'impressione che non le stia dato una grossa mano a un segretario del suo partito. Un personaggio discutibile quello. Perché lei secondo me dovrebbe parlare con il segretario del suo partito perché mentre la giustizia deve rispettare la presunzione di innocenza, la politica deve valutare anche della regione di opportunità. Vi chiedo due cose, com'è possibile che Greganti abbia trovato di nuovo aperte le porte del suo partito? Non c'è bisogno del dasbo, basta chiudere la porta per il PD. In più il PD per vent'anni ha alzato la bandiera della legalità e del rispetto delle regole. Com'è possibile che in ogni inchiesta si trovano anche uomini del PD dentro? No, mi faccio dire una terza cosa, l'ultima. Oggi su tre giornali, una Repubblica, tre esponenti del suo partito, la Seracchiani, la Bonafè e la Moretti, dicono vabbè ma è l'altro partito. Io penso che chi guida un'organizzazione si deve prendere la responsabilità di tutto, del bene e del male. Ho parlato pochi minuti fa con il segretario del mio partito e lo pensa come lei. Il giochino di dire loro e noi non può più funzionare, in particolar modo non può più funzionare nel momento in cui sei maggioranza e sei maggioranza nel paese che poi noi ce ne siamo già dimenticati, ma il risultato delle elezioni, qui parla il segretario del PD, il risultato delle elezioni è un risultato che è sconvolgente. Voi tutti dicono ma come è stata la notte? Dice chissà che felicità. No, c'era una sorpresa impazzante. Prima che felici eravano a controllare, ma è la riga giusta quando è in PD, 48? Cosa si aspettava? Dica la verità, che quota si aspettava? La verità 35. E a che quota le avrebbe fatto la pena il suo partito? Questo è più facile che lo sappia lei. Io pensavo che questo fosse il risultato, che sarebbe stato comunque un risultato straordinario, 10 punti dell'anno scorso, 35, quindi avevamo dato un messaggio molto alto, con anche grande convinzione e con grande determinazione. Però il punto è che questo 40%, questo 40,8%, bello perché ormai facciamo gli splendidi, 40,8% no, ripetiamo anche il 1,8%, non si butta via nulla, perché ci ricordo i tempi in cui fattivamo la fame. Il problema vero che noi abbiamo è che questo risultato impone al Partito Democratico di essere davvero il partito della nazione, per cui la distinzione all'interno tra noi e loro non ha senso. Lei mi dice di cregarti, ha risposto in chiare, è stato un errore, punto. E siccome sono segretario, non sono qui a dirle, ma in quel tempo non c'ero io. Non vuol dire niente, il PD ha sbagliato. Ha sbagliato, dopodiché il problema del PD è che il PD contiene anche in sé delle persone che hanno responsabilità gravi, ma il PD, caro direttore, è quel Partito che quando in campagna elettorale, in modo strumentale, perché la calendarizzazione è stata strumentale. L'evento no, ma la calendarizzazione fatta dal gruppo parlamentare sì. Si trova di fronte la richiesta di arresto di un proprio deputato, il PD guarda le carte, parlo di Franco Antonio Genovese, la cui richiesta di arresto è arrivata dieci giorni prima delle elezioni, cioè meglio, è stata calendarizzata per l'appunto proprio dieci giorni prima. Noi non è che abbiamo detto, vabbè, troviamo una scusa per inviarla dopo e ne avevamo titolo, perché si poteva fare, né abbiamo detto, diamolo in pasto all'opinione pubblica. Noi abbiamo guardato le carte, abbiamo visto come prescrive la Costituzione e la normativa di riferimento, se c'è o meno il funus persecuzionis, perché se tu sei un parlamentare, non è che non vai in carcere, se, come è corretto che sia, previsto, hai la necessità di vedere una procedura nella quale il Parlamento deve dire c'è da parte dei magistrati un atteggiamento di persecuzione legato al fatto che lui svolge l'attività di parlamentare della Repubblica e quindi di rappresentante del popolo italiano? Abbiamo verificato, abbiamo visto che non c'era il funus persecuzionis. Il PD è quel partito che ha senz'altro dentro di sé delle persone che commette un reale, ma che ha il coraggio, l'orgoglio, la dignità, al viso aperto con gli occhi che guardano negli occhi e dire, siccome le regole sono uguali per tutti e la legge è uguale per tutti, noi votiamo a favore di questo arresto senza cercare scorciatori. Questo è il PD. Avevate il titolo, anche per non candidarlo però, perché molte cose sono... Sì, però scusi, no, direttore, fermo lì. Allora, io non rispondo come ovvio che sia adesso nel merito della singola vicenda. Le dico una cosa, io non accetto che ci sia dentro di noi un atteggiamento di non garantismo, per cui per me la legge e la Costituzione sono dei principi fondamentali. Io la Costituzione ci credo davvero, non la cito soltanto. Siccome la Costituzione consente, anzi impone la presunzione di inecenza, nel caso di specie io non vedo nessun atteggiamento del PD che non sia stato rispettoso del principio di garantismo e del principio di rispetto delle leggi. Dopodiché lei dice, ma ognuno fa le scelte che vuole, ognuno fa le scelte che vuole, ma nel momento in cui arrivi di fronte all'opinione pubblica e hai quella vicenda lì, noi a viso aperto abbiamo detto quello che pensiamo. È diverso, direttore, dall'atteggiamento di chi anche in queste ore e in altre parti dello schieramento politico. A destra, come diciamo nei movimenti, continua a pensare che i partiti possano trovare delle scorciatoie o anche i movimenti, me lo lasci dire, perché l'atteggiamento del dopo elezioni mi ha molto colpito. L'atteggiamento di chi ha raccontato alcune cose in campagna elettorale e poi mi ha nascosto, però non so se posso dire, ci sono i ballottaggi, ma insomma quello che è accaduto il giorno dopo l'elezione europea, ciò che ha fatto Grillo andando a editare una personcina inglese, che ha la personcina con quelle idee, con quell'atteggiamento e poi si è scoperto che c'era già sotto qualcosa. Ecco, io sono uno di quelli che ammire limiti, ma almeno le cose, quando lei dice, lei dice in faccia e nel caso di specie, nel caso della corruzione, quello che abbiamo da dire lo diremo senza alcuna, senza guardare senza preoccuparsi delle ripercussioni sui nostri, se c'è il PD, chi ruba va a casa a calci nel sedere, esattamente come devono andare a casa quelli degli altri partiti, non c'è PD che teghe, non c'è PD o non PD, ci sono ladri e persone per bene e noi stiamo dalla parte delle persone per bene. Io ho anche detto che ci sono stati bronchi, il populismo è sempre uguale, è lo stesso atteggiamento che ho avuto Berlusconi quando ho perso le elezioni sui comproni. Sono stati i brogni, sono talmente stacco di tutti i brogni che abbiamo fatto che non posso rispondere, sono lì che siamo stati per fare il 40 rigode, abbiamo fatto tanti di quei brogni che siamo venuti a forza di fotografare le schede, lasciamo stare, lasciamo stare perché credo che ci sia bisogno di interpretare quel voto, quel voto chiede speranza, chiede posti di lavoro, chiede riscatto del sud, chiede investimento sull'innovazione, chiede capacità di avere un'Italia che non si attrae in Europa, oggi il mondo fa un pezzo dove dice che l'Italia, meno male che ci sono gli italiani in Europa, è l'orgoglio di dire che noi di fronte a un mondo che si rassegna e che chiude allo scandalo sempre, ripartiamo e ripartiamo con determinazione, sapendo che abbiamo mille limiti, sapendo che ci sono i problemi, però combattendoli, però oggi è caldo di risolverli, questa è l'Italia che noi sogniamo, ed è un'Italia che ha votato per il PD, non perché c'è Renzi, non ha votato per me, ha votato perché vuole credere che tutta questa bellezza che c'è a San Carlo come c'è a Napoli come c'è in tutta Italia, non può essere sciupata e sprecata come è stata sciupata e sprecata in questi vent'anni, non vogliamo sciupare e sprecare questa bellezza, questa è un stato di lezione, io ho la responsabilità politica in più, senta ma questo paese negli ultimi vent'anni è stato sedotto da Berlusconi per tre volte, si è innamorato repentinamente di Grillo, le ha dato 40,8% non teme questa volatilità dell'elettorale? No, il paese è lì, l'immagine, la seduzione tre volte con Berlusconi, una volta con Grillo ma veloce, sta cercando di scendere. Ecco non teme che questo paese cambi, si innamori repentinamente ma cambi rapidamente anche, che le delusioni possano essere dietro l'angolo. Sì, 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 temo questo rischio e però siccome temo questo rischio penso che nei prossimi due mesi noi avremo da metterci in testa bassa a chiudere tutte le partite che abbiamo avverto. Lavoro, decreto lavoro fatto, 1300 persone alla Electrolux hanno risolto i loro problemi grazie a quel decreto, però non basta, c'è bisogno di cambiare le regole del gioco. Questo crea posti di lavoro? No, aiuta, ma non è decisivo. I posti di lavoro li crea il contesto e l'atteggiamento che c'è verso il business. Come fare a trarre investimenti? Lei vedrà che già nei primi giorni della prossima settimana le danno messaggi ulteriori di attenzione da parte di soggetti esterni che vogliono investire in Italia. Come si fa a agevolare questi soggetti esterni che vogliono investire in Italia? Che vogliono creare posti di lavoro? E come si fa a chiedere alla classe imprenditoriale italiana che si tolga di dosso la paura, la preoccupazione, in alcuni casi anche la polvere e faccia un investimento per il dopo? Come si può non pensare che anziché ragionare soltanto dei poteri anticorruzione, che è molto importante che ci siano, l'Expo deve vedere in questa fase di blocco anche un momento di ripartenza sul turismo. Cioè, quello che è accaduto sull'Expo deve portare a dire, ok, noi finiamo i lavori per bene, evitiamo la corruzione, però facciamo anche un pacchetto di mischia degno di questo nome che va sul made in Italy, sul lago alimentare, sulla capacità di esportare artigianate, tecnologia di alta precisione, cioè investiamo sul made in Italy, accadrà questo, un pacchetto di mischia sull'Expo dove chi deve guidare quella struttura deve sempre occuparsi dei cantieri, ma ci deve essere anche una cosa ad hoc, che sia la cantina dell'Expo nel mondo e contemporaneamente la cantina del made in Italy, ma com'è possibile che noi abbiamo delle realtà, io ho fissato qui a Napoli con le autorità locali, con il Prefetto, con il Sindaco, con il Presidente della Regione, una volta ogni tre mesi veniamo a monitorare il fondo europeo a che punto siamo, per l'appunto l'ho detto il 14 maggio, tre mesi, il 14 agosto, abbiamo sbagliato i giorni, ma è ultimissimo, il 14 agosto facciamo tutto su bagnole, perché non è accettabile che di fronte allo spreco della bellezza ci sia lo spreco di una realtà che fa quasi più male, no, quasi più male no, fa male quanto la corruzione, perché in questi vent'anni la corruzione è una cosa? Ti rubano il bene pubblico, ma anche quello che è accaduto in alcuni immobili così straordinariamente importanti per il nostro futuro è una forma di furto, ti stanno rubando il futuro. Allora, su queste questioni, direttore, io credo che la partita sia la vera partita che il governo deve giocare, questo 48% non è un risultato da mettere in frigorifero come una bottiglia di quello buono, è un risultato da spendere, quindi il rischio di perderlo c'è, ma preferisco rischiare e investire sull'Italia che pensare che mi abbiano votato perché magari ho fatto un discorso meglio degli altri e quindi inserire questo risultato in una sorta di palmareste risultati politici e giocarlo tutto in politichese, è un 40,8% che noi rimettiamo immediatamente in campo investendo sull'Italia e se sarà andata male sarà tutta colpa mia, perché bisogna anche smetterla, in questi vent'anni c'era sempre un alibi e non ce l'ho fatta per colpa di quello, non ce l'ho fatta i magistrati, i sindacati, la coalizione, le azze, il partito, se non ci si fa è colpa mia, ma se ci si fa l'Italia torna a volare, l'Italia torna a crescere, l'Italia traina, l'Italia è in condizioni di prendere per mano l'Europa e di portarla fuori dalla condizione in cui siamo, basta con questi sogni rimpiccioliti per i quali l'Italia è la cenerentola d'Europa, l'Italia ha le condizioni per tirare fuori l'Europa dal pantano in cui l'Europa sta, bisogna crederci e io faccio un esempio, questo è un iPhone, questo è un iPhone, se io dico iPhone mi viene in mente, immagino Apple e made in USA, made in USA significa che per voi questo è un prodotto americano, o non c'è una cosa di questo iPhone che sia fatta in America, una, cioè non c'è un solo, ora non si è aperto, non vorrei farmi dire i messaggi ma non c'è un solo pezzo di questo telefonino che è fatto in America, però cosa hanno fatto gli americani? Il processo, curano il processo e curano il marketing e qui si torna a una parola che usata a sinistra è spesso usata contro di me e contro chi la utilizza, ma l'Italia ha le cose più straordinarie del mondo e non ha né cura il processo né un'operazione di marketing, se voi pensate a mettere, io vorrei un derby tra l'iPhone e la mozzarella di bufala, no, non so chi siete, magari questi sono tutti quelli della Samsung, però il concetto è la qualità del, o se pensate a uno strumento della tecnologia italiana, l'Italia è l'unico paese al mondo dove il direttore commerciale parla male dell'Italia, è l'unico negozio dove il titolare sta fuori, non entri eh, per carità non entri a comprare roba qui perché guardi come facciamo le cose male noi, è fuori dal mondo siamo bellezza, io ho raccontato al punto che penso di essere divenuto annoia, l'ho fatto anche recentemente a Napoli, che in un volo interno negli Stati Uniti, uno steward, lo scorso estate, parlava di San Francisco, stava arrivando a San Francisco con toni da innamorato padre, sapeva, non so se, smesso di dare le indicazioni su come mettersi la cintura e si va a parlare di San Francisco, uno di questi voli, non c'erano italiani se non la mia famiglia a bordo, quindi non è che ce l'ha riconosciuto altro, dice io volevo dire che San Francisco è meravigliosa, mi sono innamorato di questa città, è bellissima, 5 minuti con sta San Francisco che è naturalmente bellissimo, poi dice c'è, non è suggestiva come Rio di Janeiro e non è bella come Napoli, però è San Francisco. Allora il punto è che nel racconto esterno nostro, che cosa siamo in grado di valorizzare e che cosa no? Ho sentito Baricco che parlava del San Carlo, sono andato in una scuola a Secondigliano qualche settimana fa, ho chiesto ai bambini chi facesse teatro e una bambina dice sì io perché da grande voglio diventare attrice per Gomorra, che va bene, vorrei essere chiaro, non voglio aprire la discussione che per esempio Roberto Stagliano ed altri hanno fatto, il sindaco stesso eccetera, ma io se penso alla bellezza culturale del teatro, qui penso all'opera, penso a Eduardo, penso a Gomorra se penso al teatro a Napoli, penso alla grandezza della possibilità di un racconto che l'Italia possa mettere in campo, siamo in grado di farlo? Io penso di sì, la mia scoperta è di riuscire a questo punto non più nel giro di cento giorni, ma nel giro di mille giorni a raccontare un progetto educativo, culturale e di valori che spieghi perché litighiamo sulla RAI, io non metterò mai bocca sul vice capo struttura del gabinetto dell'ufficio del terzo piano del vice capo trattore della RAI, però chiedere alla RAI di tornare a fare servizio pubblico, educando le nuove generazioni, aiutando in una dimensione dal maestro Manzi nella dimensione di Internet, siamo in grado di farlo ancora, ma di tutte queste cose insieme sono la scommessa che ha il governo davanti, se poi la gente la prossima volta non vota il PD, vorrei dire che non siamo stati bravi noi, ma se voterà il PD la prossima volta lo voterà perché noi abbiamo cambiato l'Italia, e questa è una scommessa difficile, ma vi garantisco straordinariamente affascinante, ti fa venire i brividi, ti fa venire le vertigini, ma è la cosa alla quale non io sono chiamato, noi siamo chiamati, l'esercito di persone per bene che si schifano leggendo i giornali quando vedono gli articoli sulla corruzione, non possono limitarsi all'indignazione, non lasciate che il vostro modo sia semplicemente una reazione, oh che dolore, non basta più, l'esercito delle persone per bene lo cambierà a questo paese, costi quello che costi. Io sono rimasto stupito che abbiano parlato di sciocco e poi l'hanno revocato per i 150 milioni, mentre non hanno mai pensato a protestare quando l'informazione era totalmente asserdita e quindi la mette sul piano un po' più sofisticato, di alterare il mercato. Togliere risorse a uno dei due competiti... Se fossi lei direi che la concorrenza l'hanno già difesa abbastanza in questi anni, ma siccome non sono lei... No, 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 mi prego, non lo dirò e non lo penso. Diciamo, non lo dico, ecco. 1995, io avevo appena iniziato a interessarsi di politica 20 anni con i comitati pronti. Grande chiamata sui referendum, Rai contro Mediaset. Allora c'era il duopolio Rai-Mediaset. Poi c'era Vittorio Ciccicoli che stava tentando di farsi spazio e poco altro. Il meccanismo della comunicazione del 1995 vedeva una Rai, forte di alcuni successi, ma dove comunque il peso politico portava uno dei principali direttori di allora e di oggi, che era Bruno Vespa, a dire il mio editore di riferimento è la DC. Almeno Vespa lo diceva chiaramente. C'era una Mediaset... E' rimasta? No, adesso è Vespa, l'editore. Una Mediaset che era molto dinamica. Una Mediaset che, che era a fine in questa allora, che aveva visto Berlusconi appena entrare in partita, ma che aveva proposto in tutti gli anni Ottanta un modello culturale. Ho detto, non scherzando, molto convinto a Confalonieri l'altro giorno, quando l'ho visto l'altro giorno, che Berlusconi ha cambiato l'Italia molto di più con la sfida, o presunta sfida, educativa, degli anni Ottanta, dai telefilm a strisce drive-in, proponendo quindi un modello, in quel momento lì, che non attraverso le leggi degli anni 2000, quando ha fatto il Presidente del Consiglio. Perché nel 95, quando la Repubblica, e non solo Repubblica, io ero nei comitati prodi, me lo ricordo, quel referendum come la sfida finale del buopolio, c'era un modello in cui c'era una finiquest molto forte, molto dinamica, una RAI molto autorevole, anche se un po' ammaccata, e c'era un mercato che vedeva quella realtà lì. Oggi è tutto un altro film, eh? È tutto un altro film. Chi volesse rappresentare di nuovo, vent'anni dopo, il meccanismo sull'alternanza, sarebbe condannato dalla storia. Non sto mica negando che esiste un tema dei rapporti tra RAI e Mediaset. E va bene, se volete lo approfondiamo. Ma nel 95 non c'era Google. Nasceva Yahoo, Google è nato nel 97, Yahoo nel 95. La produzione globale dei contenuti e l'utilizzo delle nuove tecnologie, per cui oggi non so quanti ci stanno vedendo su Repubblica.it, immagino centinaia di migliaia di persone, sono i contatti unici che oggi ha. Immagino di poter dire... Due milioni e mezzo. Vedi, centinaia di migliaia... E io ho preso 40,8. Sono una delle nostre piccole cimenterie che perdonerete. Beh, i due milioni e mezzo, paradossalmente potrei provocare il direttore dicendo che sono molti di più quelli, anzi senza paradossalmente, che vanno a fare... che aprono Repubblica.it di quelli che aprono il cartaceo. Allora, questo vuole per Repubblica e per gli altri quotidiani e per gli altri giornali... No, sono 3 milioni i direttori. E vabbè, allora i direttori... Ma in questo momento stanno aumentando e sono a 300. Allora, il punto centrale è che sta cambiando l'informazione e la comunicazione e noi continuiamo adesso a discutere di Rai e Mediaset come prima. Non voglio negare il fatto che esista un tema di concorrenza. Ma la vera questione è ma la Rai si sta attrezzando con i prodotti audiovisivi, con i contenuti audiovisivi a andare nel mondo sapendo che scontriamo il fatto di utilizzare l'italiano che è una lingua parlata da molto meno persone che non l'inglese ma anche lo spagnolo. Oppure rimane a discutere della vendita di Raiway che era già stata perfezionata dal centro-sinistra negli anni 96-2001 e che è stata bloccata da Maurizio Casparri. Cioè noi stiamo ripartendo dal filo che aveva interrotto Casparri. Capisco che ci voglia coraggio e tutte le precauzioni del caso. Ma stiamo ripartendo di lì. Cambiamo la Casparri intanto? Beh, io penso che vada cambiata la governance della Rai, vada cambiata la strategia della Rai, ma vada fatto dopo un dibattito culturale. Io mi piacerebbe un giorno io sono accusato il direttore lo sa ne abbiamo anche parlato qualche volta di non essere capace e veramente mi scuso di questo di dare una lettura chiara di quello che stiamo facendo sia sul breve periodo che sul medio periodo. Breve periodo, riforma costituzionale, riforma istituzionale, riforma del lavoro, riforma della pubblica amministrazione, semplificazione fiscale, investimento, sul lavoro e sulle nuove forme di lavoro. È un pacchetto unitario di un'Italia più semplice, più leggera, più coraggiosa. Ma dall'altro lato c'è una scommessa per i prossimi anni che personalmente, per colpa mia, non riesco a raccontare bene. È una scommessa che parte dall'idea che dalla crisi non esci aumentando il PIL dello 0,5. Non sono le virgole a salvare il PIL e non è il PIL a salvare un paese. L'unico modo che noi avremo per uscire dalla crisi sarà un gigantesco investimento educativo. E allora vuol dire andare nelle nostre scuole e ripartire sì dall'edilizia, ma per dare dignità al valore degli insegnanti, per dare importanza al valore delle famiglie, per dare un po' di tregua alle mamme, ai papà che trovano i loro figli e sono preoccupati della scuola. secondo punto, il grande investimento sulla cultura intesa non come luogo da lasciare ai sovrintendenti di turno in una visione ottocentesca. Io ho anche alcune idee diverse rispetto a alcune che sono state espresse anche in questo Repubblica delle idee sulla cultura. C'è una impostazione, un approccio culturale che vorrebbe ridurre la fruizione dei beni e delle attività culturali soltanto un po' di adepti. Magari recuperando il sistema museale dell'Ottocento per cui andava nel museo soltanto chi era già preparata. L'ho scontrato a Firenze, l'ho scontato a Firenze. Chi va nel museo? Soltanto chi già conosce l'Ottocento era così. I figli di papà, la borghesia per bene che già conosceva tutto. Le signorine che dovevano andare a farsi una cultura. E quindi non c'è racconto del bene culturale. E quindi non c'è preparazione educativa del bene culturale. E quindi quando si parla dell'opera lirico-sinfonica non si ragiona semplicemente di quant'è l'indennità frac dell'orchestrale. Ma devi dire come fai a portare l'opera nelle scuole ripartire dalla bellezza della musica per i bambini? Se fai questo lavoro qui tu hai una scommessa che vale 20 anni per le future generazioni che riporta l'Italia Alessandro Merico ha utilizzato questa espressione che mi piace molto a riscoprire la grammatica della bellezza. Allora questo lo dicono fiori di premio Nobel è il modo con il quale esce dalla crisi con una scommessa educativa e culturale. Non con un piccolo capotaggio sulle misure economiche che faremo andremo in Europa a combattere andremo a spendere i 180 miliardi di euro ma o noi recuperiamo l'Italia che fa l'Italia e che diventa torna rimane sarà la patria della grammatica della bellezza oppure ogni tipo di discussione è terza anche il privato di giro se proviamo a fare un giro più breve riesce a fare quella teoria del lavoro che sta facendo allora rispondovi a tweet poi mi dicono che sono superficiale lei si immagina naturalmente qual è la massa principale delle domande che le sono state rivolte attraverso Repubblica.it riguardano il lavoro perché poi c'è la legge di gravità dei problemi c'è quello che vorremmo fare e c'è una gerarchia imposta per quello che dobbiamo fare e il problema del lavoro è drammatico perché poi le cifre ci riportano davanti il tema della disoccupazione giovanile che ha delle cifre che sono uno scandalo anche in Europa ecco come affronta questo problema guardi che nelle domande che sono state fatte ci sono molte critiche ma c'è un fortissimo investimento di fiducia che passa però attraverso anche un'attesa che cosa facciamo per il lavoro la gente segnala dei casi specifici i suoi casi gente laureata che non trova da lavorare ecco allora quando lei legge queste cifre anche in questi giorni della disoccupazione giovanile che cosa pensa di fare le chiedo qualcosa di concreto leggo delle email che sono più indicative delle cifre perché sono cose che non ti fanno dormire la sera quando le leggi raccontando i casi specifici di cui parla lei e allora provo a essere sintetico il lavoro non si risolve con un click occorrono più interventi la riforma della pubblica amministrazione la riforma delle regole è la precondizione per iniziare a impostare un ragionamento sul lungo periodo quindi vanno fatte le modifiche delle regole del gioco per consentire di non andarsi in alcune grandi realtà italiane e straniere e contemporaneamente per attrarne di altre è un passaggio che va fatto e in parte abbiamo già iniziato la gioia di vedere una ragazza che non mi ha votato e non mi voterà sinistra radicale che ha festeggiato con noi la vittoria nella partita Electrolux e che l'ha festeggiata attraverso quel decreto legge che per esempio qualcuno della sinistra radicale o che parte della destra non la destra non voleva e non ha votato tre si tratta di andare a scegliere degli investimenti bloccati c'è il calazzo della scelta sblocca Italia un piccolo pezzettino ma anticipare accelerare sbloccare quei cantieri garantendone la correttezza e la legittimità e accelerare la spesa dei fondi europei fondi europei fondi di sviluppo fondi di coesione fondi della politica ricola comunitaria valgono per qualcosa come 184 miliardi di euro per farlo bisogna andare in Europa e dire all'Europa non cambia il 3% ma inizia a farmi spendere a liberarmi dal patto di stabilità i denari del cofinanziamento sono molto tecnico mi scuso perché divento noioso se non lo fossi già stato il punto però è che in soldoni questi denari dobbiamo farci autorizzare farceli sbloccare però dobbiamo spendere sui progetti sede quindi massima accessibilità massima trasparenza per esempio tutto il dibattito sull'open government che spesso Riccardo Luna porta alla nostra attenzione ci abbiamo lavorato insieme in una vita precedente è un argomento che può essere molto utile per i cantieri a partire dall'expo over-expo ogni dato trasparente quindi il cantiere chiaro anziché spezzettare i fondi europei i migliaia di migliaia di migliaia di progetti che spesso servono soltanto a far contento il funzionario l'assessore il dirigente no progetti chiari poi però si tratta di ragionare di politica industriale ecco perché Taranto è un luogo sul quale il progetto deve essere chiaro verificabile e trasparente ecco perché Piombino deve essere una realtà in cui chi viene a investire riparte ecco perché Termini Meresi il Sulcis Porto Torres l'investimento della Versace una serie di luoghi fisici simbolici sto tenendo fuori volutamente alcune aree di questa terra che però poi vorrei provare rapidissimamente a riprendere quando la settimana scorsa o due settimane fa ne ho firmato due contratti per fincantieri o l'accordo tra Shanghai Electric e Ansaldo Energy a Genova quando abbiamo detto agli investitori internazionali le porte sono aperte ma noi qui abbiamo bisogno di gente che crea lavoro non di persone che vengono a fare viaggi speculativi stiamo cercando di raccontare un'idea dell'Italia diversa da quella di oggi poi ci sono dei settori in cui noi non abbiamo fatto valere la nostra straordinaria forza nello sblocca Italia io mi sono già arrivato le prime richieste quando trovi un villaggio turistico in Sicilia che può portare mille persone è chiaro che questo non è il futuro dell'Italia l'Italia non diventa Disneyland ma non è nemmeno che siccome c'è un investimento bloccato io non voglio fare Disneyland e quindi non apro villaggio turistico che da lavoro in una zona disagiata a mille persone in questo senso allora chiudo c'è bisogno di essere molto 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 determinati sui singoli punti cioè non vi aspettate da un presidente del consiglio i convegni sul lavoro basta con i convegni sul lavoro le cose da fare le sappiamo tutti alla perfezione è arrivato il momento di essere operativi ma per essere operativi è anche vero lasciatelo dire che non è che il pubblico può pensare di sostituirsi e di creare posti di lavoro in autonomia questo vorrei che fosse chiaro c'è bisogno di chiedere di investire sulla libera imprenditorialità c'era un bellissimo librettino di un napoletano ha detto se Steve Jobs fosse nato a Napoli non so se l'avete letto è molto divertente ma anche fosse nato in Italia l'esempio che facciamo spesso è quello delle start up delle aziende che possono creare futuro innovazione lo spazio per ripartire dal punto di vista del lavoro non è collegato a una singola scelta ma tiene insieme lotto alla burocrazia riforma costituzionali e istituzionali modifica delle regole del lavoro impostazione diversa sulla giustizia civile per consentire tempi certi a chi interviene in Italia e poi lo tengo alla fine ma è fondamentale ed è il problema del rapporto col fisco qui direttore c'è una grande questione che riguarda la sinistra noi non possiamo dire in Italia nel 2014 o comunque negli anni 2000 al di là che chi lo pensava era persona degna di stima e a cui va tutta la nostra riconoscenza alla memoria ma non possiamo pensare di essere il partito che dice che le tasse sono bellissime per un motivo molto semplice che in Italia il sistema fiscale è quanto di più assurdo farraginoso e devastante immaginabile allora c'è da fare un pacchetto che tenga insieme uno una lotta all'evasione senza quartiere e la lotta all'evasione la fai con gli strumenti telematici non con i blitz a sorpresa tu vai sul fonte vecchio una volta e speri di beccare il giapponese che si è comprato l'orologio e di fargli la multa perché non ha affrontato un codice fiscale giusto ma quando tu puoi fare l'incrocio delle banche dati e sai tutto di tutti e gli scopri i evasori veri ma di che stiamo a discutere? due però non avete parlato poco di lotta l'evasione fiscale meno se ne parla e più si agisce e più siamo sedi è vent'anni che continuano a prenderci in giro sull'evasione fiscale scusi non punti in un modo diverso facciami un esempio direttore allora come funziona una legge fate conto che io sia un ministro in cerca di visibilità arriva la legge faccio la riforma di delle palestre il mio porta a voce in me e mi dice tu vuoi avere domani spazio sui giornali certo allora questa riforma delle palestre non funziona come funziona sto facendo la riforma bisogna aggiungere qualcosa che piaccia ai giornalisti colpa dei politici non dei giornalisti cosa? mettici una deducibilità mettici una deprezzioncina chi va in palestra di scarpe nere a triocchiali in un certo modo al 19% sul modulo X che può pagare entro il 16 giugno a meno che non ha lì un decreto del governo che lo sposta al 23 settembre a condizione che non sia bisestile perché in quel caso c'è 30 giorni per guicci no non li vedete perché è così è così noi abbiamo destagionalizzato il lavoro dei commercialisti in tutto il mondo c'è una data in cui si pagano le tasse da voi e lo dico io che ieri ho dato il via libero all'operazione e questo è veramente incredibile per me che pure sono responsabile quindi sono dichiaro la mia comprevolenza della tasi un meccanismo anche ci sono messi di impegno perché c'è un meccanismo qui su va bene non è un problema qual è la conclusione la conclusione è che con calma venerdì dopo tre mesi che si arrivi il blocco della semplificazione fiscale parte e il prossimo anno vi arriva la dichiarazione a 32 milioni di italiani arriva la dichiarazione di redditi precompilata la dichiarazione di redditi precompilata significa non solo fatto fisico ma significa che non c'è più il meccanismo tu paghi le tasse io sto fermo cinque anni a controllare arrivo magari a quattro anni a otto mesi ti faccio l'accertamento ti chiedo di portarmi gli scontrini che avevi lasciato ma cambiamo cosa il meccanismo è esattamente l'opposto non è lo stato che controlla e che diventa il nemico un controparte ma lo stato che è alleato tu mi porti io ti mando ti va bene chiusa qui la parte di tramo è chiusa non ci vediamo più questo rovesciamento dell'impostazione fiscale è fondamentale sul tema del lavoro perché perché crea un paese semplice noi abbiamo bisogno di creare chi vuole fare impresa deve poterla fare invece oggi chi deve creare impresa direttore si mette l'ansia noi abbiamo cercato di fare alcune cose per me è cosa di sinistra dire che si alza un po' la tassazione per chi fa rendite finanziarie e si abbassa del 10% per me di sinistra per me di sinistra dire che si va a tagliare delle spese inutili e si dice che si restituisce al 100 medio non gli 80 euro in quanto tale ma una piccola quota di indignità e poi l'hanno chiamata mancia elettorale lemosina perché non sanno che cosa significa avere la possibilità per un metalmeccanico per un insegnante per una persona che guadagna meno di 1500 euro di avere quel piccolo margine per cui con 80 euro magari semplicemente si porta il figlio a mangiare una pizza una sera è dignità non è elemosina è giustizia sociale non è il compravendimento elettorale su queste cose stiamo partiti sono precondizioni per creare lavoro poi è chiaro nell'immediato ho bisogno di alcuni investimenti questo è la garanzia giovani sta andando 74 mila domande a ieri però non sono risolutive quindi io dico ai ragazzi che vogliono iscriversi a www.garanziagiovani.gov.it ok ma non risolveranno definitivamente i problemi i problemi li risolveranno quando ci sarà un ambiente favorevole a chi vuole creare impresa favorevole a chi vuole trasformare un'idea ma anche favorevole a chi quando va a lavorare non sta chiedendo allo Stato la mancia o il lavoro pubblico perché non c'è alternativa sta chiedendo di rispondere quello straordinario articolo 1 della Costituzione che quando dice che la Repubblica è fondata sul lavoro dice che la Repubblica non è fondata sulla rendita e in questi anni invece noi abbiamo troppo spesso privilegiato chi aveva già rispetto a chi poteva creare lavoro e dare a causa di speranza abbiamo quasi finito il tempo sforeremo naturalmente ma abbiamo quasi finito il tempo e non abbiamo ancora parlato dell'Europa fino a domani quando c'è Scalfa di Benigni fino a domani sera alle 4 siamo qui quindi no però le voglio chiedere una cosa gran parte dell'investimento di fiducia di apertura che ha fatto l'Europa all'inizio che l'hanno fatto i mercati e credo anche nel consenso elettorale e nell'aver affrontato di petto le riforme siamo un paese che non ha una legge elettorale abbiamo una legge elettorale di risulta dall'avere eliminato aspetta un attimo lei ha fatto un cronoprogramma eccetera eccetera a che punto è la riforma del senato a che punto è la riforma elettorale si dice che Berlusconi l'abbia chiesto di rinviare a ottobre la legge elettorale perché ha paura del voto dopo i risultati elettorali e il senato io ero favorevole o la riforma del senato soltanto dei sindaci eccetera mi sono reso conto che sindaci e presidenti di regione taglierebbero fuori il secondo partito del Parlamento che è Grillo che non ha di fatto rappresentanza di questo tipo quindi il senato avrebbe un problema di rappresentatività politica reale lei ha una discussione a distanza con Scalfari su questo punto siamo tutti d'accordo a Repubblica che bisogna eliminare il camerismo perfetto che bisogna eliminare il voto di fiducia ma sul potere del senato sul discorso dell'elezione la discussione è aperta può brevemente spiegare a che punto sono queste due riforme è vero che Berlusconi l'ha chiesto di inviare la legge elettorale in autunno? no bene lei sa che c'è sempre un sospetto che ci sia che ci sia un patto segreto dietro gli incontri che avete fatto? abbiamo tolto il segreto di Stato abbiamo declassificato la prima cosa ho detto io non ne posso più di questo paese dove tutto è porto delle lebie per cui mi ero ripromesso vedendo Samarcanda di Santoro quando facevo il liceo dicevo io se per caso avrò domani un ruolo la prima cosa che voglio fare è togliere tutto il senato non è per caso divento presidente del consiglio e dico vabbè guarda portatemi parlo con Minniti che è l'autorità dei servizi dico guarda Marco facciamo una cosa dobbiamo declassifichiamo tutte le carte dei servizi gusti cioè tutte cose anche grandi firmo quell'atto devo dire con un po' di solemnità da parte mia sentivo un po' di orgoglio anche nel fare una cosa giusta dal giorno dopo sono partiti eh ma Renzi c'è il patto segreto con Berlusconi abbiamo fatto un ragionamento alla luce del sole con un comunicato stampa finale non so che cos'altro si possa dire c'è un principio in Italia di presunzione di complotto secondo me il vero responsabile è Aldo Piscardi cioè tutto noi siamo tutti Aldo Piscardiani siamo cresciuti con il processo del lunedì è tutto un complotto allora dobbiamo di essere chiari è giusto o no che in un paese civile i partiti si mettano d'accordo sulla legge elettorale è banale questo non è accaduto nel 2006 per responsabilità di Berlusconi e se oggi fare un avvedimento operoso e lui sta al tavolo mi sembra un fatto positivo viceversa perché dobbiamo anche avere il coraggio di parlare noi della sinistra è giusto o no che le riforme costituzionali si facciano insieme sì noi abbiamo da fare il avvedimento operoso perché siamo stati noi nel 2001 e poi loro nel 2006 che abbiamo approvato a maggioranza una riforma costituzionale di 3 voti 5 voti 10 voti beh io sono perché le regole si scrivano insieme senato quindi do la risposta visto che il tempo è scaduto c'è stato un tempo scaduto che mi ricorda le mie origini culturali Mike Bongiorniane e il tempo è scaduto vorrei essere molto breve e molto preciso io ritengo che ci siano le condizioni perché entro l'estate ci sia la legge elettorale e la prima lettura della riforma costituzionale e ho risposto che era una domanda vengo pronto e meglio della riflessione politica in realtà noi abbiamo un pregiudizio per il quale sembra che la riforma costituzionale nasca da una improvvisazione dell'ultima ora la riforma costituzionale o meglio la scrittura della costituzione sul senato è stata oggetto di una grande trattativa in serie di assemblea costituente la DC voleva il senato delle professioni il PC voleva il senato delle autonomie il bicameralismo perfetto non fu una scelta motivata e logica o meglio non fu la scelta di partenza poi fu senz'altro motivata e logica ma fu una scelta di risulta non riuscendo la DC a convincere i comunisti sul senato delle professioni non riuscendo il PC a convincere la DC sul senato delle autonomie magari perché la DC aveva la preoccupazione che con le autonomie il partito comunista potesse giocare un ruolo di interdizione nella camera alta l'accordo che sembrò il più ragionevole perlomeno da questo si desume dai lavori preparatori della discussione politica di allora portò al bicameralismo perfetto io sono per superare ma sono anche lasciatevelo dire per superare un titolo quinto che in questi anni ha fatto dei danni l'eccesso di potere in nome di un federalismo e di una devolution che non hanno funzionato l'eccesso di potere che è stato dato in alcune realtà alle regioni ha creato dei problemi ma vi sembra normale che in un mondo in cui non riusciamo a fare le interconnessioni tra Spagna e Francia noi abbiamo le politiche energetiche regionali la politica energetica del Molise o della Toscana cioè in un'alcormice in cui noi abbiamo condizioni geopolitiche stavanti mattina ho parlato al telefono con il presidente della Repubblica Araba d'Egitto che domani sarà il nuovo capo dello Stato abbiamo discusso al G7 di queste tematiche a lungo abbiamo fatto una lunga riflessione su ciò che sta accadendo in Libia ne abbiamo parlato con Putin ne abbiamo parlato con gli Ucraini in un momento energetico del genere noi abbiamo l'energia che è con il 117 in mano delle regioni vi sembra normale? allora quando noi chiediamo la riforma costituzionale non ci stiamo impiccando sull'una o l'altra soluzione al Senato però diciamo direttore che arriva il momento in cui a un certo punto se la politica fa le cose sul serio abbiamo il dovere di decidere trovo inaccettabile che si continui a rinviare e su questo interpreto il 40,8% come un messaggio luminoso chiaro ehi non fate più scherzi ehi non pensate di continuare a menare il camper line ehi su queste discussioni il massimo coinvolgimento il massimo confronto però anche la consapevolezza e la convinzione che è arrivato il tempo delle scelte e che l'Italia non si può più permettere di rallentare o andare all'indietro mentre il mondo corre scelte quali per la legge elettorale perché mi sembra che forse l'Italia si sia ripensato no non lo so io non ho parlato con Berlusconi dopo le elezioni e comunque appena parlo lo dico subito perché non sappia la scelta non si sa mai dico dove come io non credo io credo che Berlusconi abbia tutto l'interesse a stare in questo fatto ma non l'interesse semplicemente utilitaristico per il suo partito io credo che Berlusconi abbia l'occasione di chiudere questo accordo come un accordo nel quale le forze politiche si rispettano io posso avere le mie opinioni ma rispetto ai milioni di persone che votano per un partito che io non condivido e questo rende ancora più insopportabile la posizione di 5 Stelle che va a discutere con gli xenofobi a Londra e non vuole parlare con noi in Italia lo dico a quei deputati di 5 Stelle perché per l'appunto per l'appunto questo è un modo Grillo è stato fantastico ha detto no io metto la mia passione per Grillo sono uno di quelli che andava ai suoi spettacoli e quindi come dire ne ho accolto anche le evoluzioni o involuzioni a seconda dei punti di vista ma scusi direttore ma Grillo è riuscito a dire che nel confronto tra me e lui non l'ho fatto parlare bravo io voi dovete anche capirmi io cerco di assumere un atteggiamento istituzionale anche talvolta facendo un po' di fatica e forzandomi per cui avevo appena ricevuto l'incarico sentivo forte la responsabilità di fare quello per bene quindi mi metto a sedere prego si accolta per carità un diluvio di parole tentavo di parlare il Matteo Renzi vecchia maniera si avrebbe salito sul tavolo gli avrebbe strappato il microfono gli avrebbe detto guarda lo scrivete lo faccio io adesso il Matteo Renzi che non esiste più invece il Matteo Renzi istituzionale diceva guarda noi siamo disponibili parliamo rispettiamo i vostri voti vedo tutto l'istituzionale per bene dopodiché in tutta la campagna elettorale Grillo diceva no perché poi con quella sua sobrietà per cui mi definisce Leventino il Leventino non mi faceva parlare direttore qui c'è da salvare l'Italia allora siamo in condizione di dire che le regole si scrivono insieme noi ci siamo noi siamo pronti a scrivere le regole ma sappiano loro signori che il partito democratico proprio perché ha ricevuto forte e chiaro il messaggio degli elettori non accetta giochi alla meno sulle riforme sulle riforme istituzionali e sulle riforme costituzionali i cittadini ci hanno chiesto di farle noi le facciamo nel rispetto dei principi che hanno sempre chiamato la nostra azione e le facciamo però anche nella convinzione che facendo quelle riforme la politica diventerà credibile per dire ai burocrati è arrivato il momento di cambiare la pubblica amministrazione per dire agli imprenditori è inutile fare i convegni iniziate a investire in Italia anziché fare semplicemente i convegni per dire a chi ha vissuto di rendita perché in questi anni in tanti hanno vissuto di rendita anche tra i sindacati che non ce n'è più per nessuno che se bisogna dare una mano a tutti da una mano alla RAI da una mano ai magistrati da una mano ai sindacalisti da una mano ai partiti l'Italia si cambia insieme non a pezzettini questo è il punto che non è inutile senta il voto ha premiato un partito di governo in Italia tuttavia la disaffezione nei confronti dell'Europa è cresciuta moltissimo anche qui se noi sommiamo quelli che non sono andati a votare per le elezioni europee e poi i voti euroscettici c'è da essere preoccupati anche perché eravamo un paese magari superficialmente più europeista d'Europa una delle cose che la gente percepisce è che dell'Europa sente il vincolo e non sente la legittimità del vincolo sente le istituzioni lontane allora l'idea che il Presidente del Parlamento europeo fosse un risultato del voto perché c'erano delle candidature era sembrato un modo per avvicinare l'Europa ai cittadini e cioè quel voto diventa una leva premio punisco scelgo adesso sembra che i capi di Stato e di governo si riprendano questa scelta e tuttavia hanno una forte difficoltà a scegliere addirittura il Premier inglese Cameron dice l'Inghilterra potrebbe se cedere se voi fate Juncker a me pare che le due candidature storiche Partito Popolare e Socialista Juncker e Schulz si stiano elidendo e siano fuori gioco entrambe che cosa sta succedendo chi farà il Presidente della Commissione non glielo so dire e credo che non lo direbbe magari no no non lo so sinceramente non sono in collezione di dirlo in questo momento so cosa pensa l'Italia a questi tavoli ma lei sa anche cosa pensano gli altri video perché arriva da un vetro sì ma in questo momento c'è tanta gente che ha interesse a sapere cosa pensa l'Italia e cosa pensa l'Italia e penso che l'Italia debba andare a quei tavoli non preoccupandosi di cosa dicono gli altri cioè ascoltando quello che dicono gli altri ma per una volta essere consapevole che il risultato che arriva dall'Europe porta l'Italia a poter contare qualcosa e per contare significa non mettere uno dei nostri noi abbiamo straordinari servitori delle istituzioni italiane perché uno come Mario Draghi è un valore per l'Europa non è un valore soltanto per l'Italia quindi il ragionamento potrebbe andare molto in là sintesi uno il Presidente della Commissione deve essere uno che è scelto dai cittadini beh argomento valido problema nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza neanche nel Parlamento europeo quindi bisogna per forza andare all'accordo ok quindi non è che stiamo noi negando la democrazia a meno che non si dica che chi prende il primo che arriva vince ma questo non è un meccanismo completamente democratico pensando ai numeri il Partito Comunale Europeo ha perso posizioni non le ha guadagnate poi io sono per dire vogliono candidare Juncker bene cosa pensa Juncker dei prossimi 5 anni in Europa continuiamo come abbiamo fatto in questi 5 anni può chiamarsi Juncker o può chiamarsi Paolo Rossi uno che voglia continuare con la politica di questi anni non avrà il consenso del nostro Paese perché noi sappiamo che i percentuali di disoccupazione sono percentuali che nascono dalle nostre responsabilità italiane noi dobbiamo cambiare il lavoro noi dobbiamo cambiare il fisco noi dobbiamo cambiare la burocrazia ma nascono anche da uno sguardo troppo legato all'austerity troppo legato al rigore e poco legato alla crescita dei posti di lavoro allora i capi di Stato e di Governo i parlamentari europei prima di preoccuparsi dei posti di potere si preoccupino dei posti di lavoro ci definiscono la strategia dei prossimi anni dell'Unione Europea noi stiamo lavorando un documento su questo noi italiani noi italiani ne abbiamo parlato con i tedeschi ne abbiamo parlato con gli inglesi ne abbiamo parlato con i francesi ma sta dicendo che ci sarà una proposta italiana? non sto dicendo che ci sarà una proposta sui nomi sulle cose da fare sì noi abbiamo chiesto che ci sia un confronto non sui nomi ma scusate il populismo arriva a quelle cifre che ricordava adesso il direttore Azio Mauro e noi che cosa facciamo? anziché domandarci qual è la causa del populismo ci mettiamo in una simpatica litigata su chi fa cosa ci mettiamo in una sorta di grande incrocio avete presente quel gioco elettronico che si chiama Tetris che fa 30 anni in questi giorni il tennis è un gioco dove ci sono delle figure geometriche diverse che vanno incastrate quando sono incastrate a un punto giusto si vince l'Europa non è Tetris l'Europa non è incastra le legittime ambizioni personali l'Europa è capire se di fronte al dolore di una disoccupazione che cresce a doppia cifra siamo nelle condizioni di cambiare o no ma è anche il fatto che tra 30 anni l'Europa non esiste o c'è l'Europa o la Germania l'Italia la Francia non stanno nelle top posizioni a livello mondiale e quindi come riusciamo a ripartire sulla crescita dice che la Germania cresce molto cresce lo 0,8 sono percentuali da prefisso telefonico per gli altri paesi del mondo noi siamo vissi ancora peggio ecco che la sintesi è cose da fare è giusto o no come diceva Martin Schulz in campagna elettorale che gli investimenti sulla scuola e sull'educazione siano scomputati dal patto di stabilità per me sì che gli investimenti sulla rete tecnologica a banda larga le infrastrutture digitali siano fuori da questo patto di stabilità o no che il 3% è quello del rispetto dei parametri economici ma è anche quello sulla ricerca pensate nella vostra Napoli alla bellezza straordinarietà di un rapporto diverso tra ricerca e innovazione e università ma guardate che noi abbiamo un racconto di noi stessi che è tutto negativo ma in questa terra da questa terra quante straordinarie posizioni di forza su questi tempi sono nate e cresciute allora direttore noi non siamo interessati a discutere semplicemente di un nome e neanche di un pacchetto di nomi poi ci stiamo quando ci siamo a discutere dei nomi ci saremo anche noi ma pensiamo che la discussione sui nomi debba venire dopo aver deciso che cosa fare bene ci sono due nomi che girano in aria per quando si parla d'Europa non per la presidenza credo che parte dalle idee da lei mai eletta lei ha parlato con loro hanno possibilità di avere cariche in Europa io credo che noi come italiani abbiamo lo spazio di avere alcune posizioni di responsabilità però credo che sarebbe molto ingiusto nei confronti di tutti i diretti interessati che non sono da lei mai eletto gli altri ma gli italiani che si parta da un ragionamento sui nomi anche perché le dico in totale trasparenza e franchezza la verità non c'è un tavolo in cui mi sia stato detto o questo è il nome oppure dici il nome noi abbiamo detto in tutti i tavoli siete in condizioni di capire che il messaggio che è arrivato dai populisti è un messaggio che dice che o cambiamo l'Europa o ci saltano in aria le istituzioni europee che il 48% che ha votato per il PD non ha votato per questa Europa qua ha votato perché l'Europa cambi e non è che questa discussione dice si bene ho preso 48 adesso mi date un commissario un presidente del consiglio due membri dell'eurogruppo tre atti di rucola in padonia cioè non è così non puoi pensare di trasformare quel risultato in una richiesta di posti quindi per il momento la discussione sui nomi è totalmente a zero chiedo una cosa breve sull'Europa poi ho due domande anche perché perde un treno sì ma sull'Europa c'è questo il semestre europeo non ha la titolarità dei grandi dossier economici come pensa di usarlo per correggere l'equilibrio del rapporto tra rigore e crescita Padoan ha scritto un documento molto buono ne ha parlato con l'omologo tedesco due giorni fa e fatemi dire che questo è un fatto molto molto importante e positivo perché spesso si viveva con preoccupazione del rapporto Presidente del Consiglio Ministro dell'Economia io sono molto grato per Carlo Padoan per la sua competenza la sua collaborazione e anche il suo prestigio europeo che ci consentirà di avere una carta in più da spendere per cui sul tema specifico non mi metto adesso a discutere per un altro quarto d'ora sul merito le dico che c'è l'Italia è pronta e io penso che l'Italia sarà anche nelle condizioni di lasciatelo dire di togliersi la soddisfazione di orientare la discussione anziché di seguirla questo è il risultato bello per il Paese noi il giorno dopo le elezioni dal giorno dopo siamo nelle condizioni di dire magari abbiamo delle idee sbagliate però ci state a sentire adesso e devo dire che è una percezione diffusa praticamente in tutti i nostri partner e colleghi tre cose veloci per chiudere lei è meno bullo adesso di quanto non fosse prima delle elezioni mai stato bullo in vita mia nonostante le sue definizioni direttore no dico questo perché la prima definizione di bullo è la direttore non a Repubblica delle Idee ma al Festival del giornalismo di Perugia mi si è inzio un bullo e io ho detto magari non lo sono mai stato nemmeno da ragazzino non mi sento bullo mi sento una persona straordinariamente fortunata perché faccia un lavoro che è un lavoro straordinariamente bello io mi ricordo l'anno scorso con Giannini chiudemmo con una frase di una poetessa Maianghelu che è morta proprio qualche giorno fa non che questo porti sfortunato vorrei a Napoli però che diceva possono ricordarti possono dimenticarti per quello che hai detto possono dimenticarti per quello che hai scritto ma non dimenticheranno mai come li hai fatti sentire allora io credo questo credo per me bullo o non bullo che questo momento sia un momento veramente particolare perché sento non su di me ma in Italia indipendentemente da quello che stiamo facendo io credo che stiamo facendo molto ma di più dovremmo fare di quello che stiamo dicendo di più dovremmo dire no perché si parla anche troppo ma trovo un clima una sensazione di speranza una voglia di dire vabbè guarda io magari mi stai anche antipatico per Matteo però noi ce la facciamo stavolta l'idea è stavolta ce la facciamo questa volta sì e questo è un atteggiamento che mi rende da un lato il solito entusiasta che magari qualcuno può definire bullo dall'altro però anche molto responsabile perché camminiamo prudenti sui sogni delle persone quindi c'è un sentimento di speranza e di entusiasmo ma anche di grande responsabilità senta la penultima lei parla ricretutamente dell'orizzonte naturale della legislatura 2018 avrebbe un tempo straordinario davanti nell'instabilità italiana avere tre anni di governo complessivamente sono molti però nella logica maggioritaria c'è anche il chiedere le elezioni è stato fatto da dei leader in paesi dove c'è una cultura maggioritaria ecco si parla ogni tanto della tentazione della possibilità che lei chieda il voto l'anno prossimo cosa direbbe Silvio stai sereno oppure c'è questa possibilità esiste se i responsabili i rappresentanti in Parlamento sanno leggere la politica e penso che la sapete leggere meglio di me devono avere la piena consapevolezza che è finito il tempo della parute e quindi io non mi metto qui a ragionare in una logica politichese ah siccome ho vinto adesso l'occasione per chiudere la partita mi danno la maggioranza con il mio Parlamento mi sa cosa posso fare perché sarebbe un atteggiamento per alcuni aspetti anche naturale e normale ma sarebbe un atteggiamento che di fatto tradisce quel mandato che ti è arrivato allora se i rappresentanti del Parlamento sanno leggere il voto degli italiani e il volto degli italiani questo è il momento in cui si va si parte per arrivare al 2018 ma non per occupare delle poltrone per rovesciare il paradigma culturale ed educativo dell'Italia siamo in grado di farlo io credo di sì ne sono convinto e consapevole perché conosco gli italiani non perché conosco i parlamentari perché vedo gli italiani e secondo me in Italia c'è questo crema qui quello di dire ragazzi mettetevi pure a litigare quanto vi pare ma su queste cose questa è la volta in cui si volta pagina per cui rispondo alla domanda dicendo secondo me si va alla fine della legislatura dopodiché io posso andare a casa domani mattina non ho una preoccupazione personale ho la preoccupazione di non tradire la speranza di chi oggi vede la possibilità di cambiare l'Italia e per farlo però vorrei chiedere a tutti voi di non cedere mai alla rassegnazione perché se i politici si sono potuti comportare come si sono comportati è anche perché hanno avuto nella società civile un atteggiamento di rassegnazione spero che questa volta non vogliamo anche voi l'ultima cosa è una bella responsabilità aver portato per la prima volta nella mia storia la sinistra italiana al 40,8% guardi un attimo dietro non c'è arrivato PC non c'è arrivato PDS non c'è arrivato DS non ci sono arrivati DS c'è arrivato come leader della sinistra o c'è arrivato come papa straniero perché era estraneo questa storia ci sarà sempre qualcuno che mi riterrà il papa straniero e mentre loro faranno i convegni su quanto io sia il papa straniero noi cambieremo l'Italia e metteremo la residenza in questo paraccio che è un luogo naturale di la sinistra italiana che è un luogo naturale che è un luogo naturale che è un luogo naturale